Ma nei confronti del Catania, perché io sapevo quello che poteva succedere e quindi non lo dovevo permettere. Qualsiasi cosa, se io rimanevo lì, poi dopo alla fine chiunque poteva muoversi, ma aveva le mani legate. Da un punto di vista ambientale io conservo per quel brevissimo periodo in cui sono stato lì, conservo un ricordo piacevolissimo di tutti e due gli ambienti, di tutte e due le tifoserie. Però, ripeto, tu il lavoro lo devi svolgere, c'è una proprietà e quindi eravamo non in assonanza di pensiero, perché la stampa indirizza, perché la stampa fa opinione, perché la stampa crea mentalità, crea miti, crea modo di essere, perché la stampa influisce sul morale dei calciatori, le pagelle, il modo di... Sì, no, 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 tante cose, quindi è sicuramente... Ma questo non rischia però di, in qualche modo, demolire la figura del giornalista, no? In qualche modo da ridurla, perché poi sa, succede che a volte il giornalista è terrorista, a volte è partigiano, a volte sta contro. Io ho sempre richiamato l'attenzione sull'essere giornalisti professionali, professionali, fare il lavoro con professionalità. Quando si scantona, si mette avanti l'io, quindi si fanno delle considerazioni, si comincia a lavorare e a parlare da personaggi per fare tendenza, per parlare, quello disturba, vuol dire che non sono parte di una componente, sto disgregando invece che aggregare. L'unica persona che merita veramente di essere sui Morales è lei e anche Polverente. Evidentemente mi vogliono in salute e siccome certe cose si fanno ai morti, mi auguro che me la facciano un domani che non ci sarò più. Pensare a uno stadio nuovo non la vedo come una strada percorribile, vedo percorribile la ristrutturazione del Massimino e il prossimo obiettivo del Catania che va di pari passo con il discorso dell'avanzamento di categoria è proprio questo, è quello di rilevare il Massimino e ristrutturare il Massimino. Grazie.